Nella continua ricerca di miglioramento, per la nuova stagione di vendita, il giovane Marmai consolidato brand Etrusco ha presentato l'i7400QBC, un motorhome completamente ristilizzato con tanto spazio di stivaggio e completo di dotazioni. Questo è un veicolo di 7,40 metri con una caratteristica che si orienta sullo spazio, sulla zona giorno, grazie alla disposizione dei divani che si trovano sui due lati con un tavolo centrale che si può andare a spostare lasciando così anche libero il passaggio tra la zona cabina e la zona della cucina. La cucina con lavello a sinistra e piano cottura a destra, entrambi di acciaio inox completa di pensili e cassetti determinano di sicuro maggiore spazio all'interno della cellula. Sensazione questa è che si ha sin dall'ingresso anche grazie alla porta XXL con gradino integrato, affiancata al grande frigo da 140 litri. Buona abitabilità la si riscontra anche nella zona toilette con bagno e doccia contrapposti. Per quanto concerne la zona toilette è una zona con tre tipologie di sfruttamento quindi abbiamo o la singola zona toilette ampia, la doccia ben usufruibile oppure grazie alle porte scorrevoli riusciamo ad unire le due zone creando una zona unica con uno spazio dedicato anche a spogliatoi. Il design italiano e la cura dei particolari rendono questo motorhome molto ricercato. Gli interni sono molto eleganti ma anche funzionali, infatti la zona giorno e la zona notte possono essere completamente separate garantendo privacy nella camera da letto ma anche un'ottima abitabilità nella zona living grazie alla dinetta face to face che unita ai sedili girevoli in cabina guida può ospitare anche 5 o 6 persone a tavola. Quattro invece sono i posti omologati in viaggio come per la notte dei quali due disponibili col matrimoniale centrale in coda posto su grande garage, altri due posti letto dal basculante su cabina guida più un ulteriore quinto posto opzionale oltre che come posto letto anche in viaggio. La zona notte del nostro motorhome i7400 qbc è contraddistinta dall'offerta di una camera reale ampia, ampia per quelle che sono le zone di stivaggio ben studiate sia sugli armadetti laterali che su gli appositi due cassetti posti sulla parte inferiore del letto e anche una botola sempre ai piedi del letto. Un ampio passaggio laterale comodo e un letto dalle dimensioni molto generose. Già dall'esterno l'i7400 qbc si presenta con un piacevole design moderno arricchito da un'elegante grafica. La morbida linea che unisce la parte frontale e il tetto è infatti Donald Camper è una silhouette elegante che ben si fonda con i tenui colori interni e il mobilio dal design italiano con un'illuminazione total led. Insomma un veicolo completo con un ottimo rapporto qualità prezzo. Etrusco i7400 qbc viene allestito su motorizzazione Fiat Ducato 2002 con partenza 120 cavalli ma con l'opportunità di poterlo avere anche su motorizzazioni più potenti quindi 140 cavalli o 160 cavalli. Etrusco i7400 qbc l'elegante libertà per vacanze da sogno.